Al terreno siamo una salsiccia? Ah, certo. Guarda, sono già piccole. Che faccia? Sì che è così almeno. Insomma, è parecchie là in Giappone, perché è tutto mangiato diverso, no? Cosa mangi là in Giappone? Ah, non so. Cosa mangiate là? Sushi, 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 sushi. Vincito adesso. No, infatti me la porto su tranquillamente, insomma, anche come distanza si è trovato benissimo. Che macchina ti ha dato cos'è? Ah, so soltanto che è una Mazda. Una Mazda, la Mazda. Da giapponese. Sì, ma di Giappone, ma di Giappone perché? Che ha preso in Giappone, però. Eh, ma di Giappone. Fa una bella stazione. Se no. Fa una bella stazione. Konichiwa. Konichiwa. Konichiwa vuol dire? Konichiwa. 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 Noi mi ricordo io. Spero che sia buono. Sì, certo. Fagioli neri messicani. Questa è la carne dei fagioli. Carne di fagioli? Un altro criceto che volete giù dal foggiolo. Gisela, fai una foto. Questa sera vi lascio a fare la cena. Digiuno. Digiuno totale. Semino, semino, semino. No, mi ricordo sempre. Ivo. No, no. Un po' etnico. È la roba etnica. È la roba. Foto del bimbino. Sì? Ah. Eravamo per una cena. Continua a salire. Mi sale sempre qua. C'è lei, sotto lei è scena. Barbero non è scena. È proprio il riso a Firenze. E sono andata a comprare il riso proprio. Eh, se... Allora, vivo? Si potrebbe provare un giorno, no? Cosa? Eventualmente se c'è qualcosa che non pericolo, comunque chiacchieranno proprio. Venga, è la verità. Ho detto. Non si parla, devo imparare anch'io, eh. Sono fantastici. Sono rossissimi, però non è rosso vivo. Ma una sera ti sveglia un po'. Poi c'hai... Mangi, mangi. Un po'. Sono rossissimi, mangi. Dici, quello... C'è, scegli un po' di... Mecchi, mecchi. E' Damiano. E' la mia tiglia. Hai presente un piatto così di...